Patrizia Pellegrino prima di essere eliminata dal GFV per ripercorre la sua vita fatta di tanto dolore, ma non solo. La 59enne ha raccontato del primo grande trauma, la perdita del primo genito Riccardo a solo 10 giorni di vita. Poi all'adozione di Gregorio, l'arrivo dei figli Tommaso e Arianna, nata però con una malattia genetica. Proprio la 22enne ha voluto inviare un messaggio di forza alla mamma, sono sicura che i tuoi compagni ti scopriranno e vedranno in te una donna fantastica. Patrizia in lacrime ha raccontato il rapporto speciale con la figlia. Ho lottato moltissimo per lei e con lei l'ho fatto operare al cervello perché aveva dei problemi ma io sapevo che ce l'avrebbe fatta. Lei però non voleva operarsi, mi urlava che mi odiava per quello che l'avevo fatto. Io non voglio che lei sia perfetta perché per me lei lo è ma la voglio rendere il più autonoma possibile. La Pellegrino quindi ha concluso. Sono una donna fortunata perché nonostante le sfortune della vita ho loro tre. Grazie a tutti.